Benvenuti nel canale e ricordati di iscriverti e lasciare un like. Oggi vi parleremo di una storia che ha affascinato milioni di persone e che continua a colpire il cuore di Romina Power. Ilenia Carrisi, un nome che rappresenta un dolore costante nel profondo del suo essere. La vita di Romina è come una matriosca, una serie di storie ed emozioni che si intrecciano in un unico destino. Ma non è nata in un luogo qualsiasi. La sua biografia rivela che è nata a Los Angeles, una città che ha lasciato un'impronta indelebile sulla sua pelle e nel suo cuore. I suoi genitori, Tyrone Power e Linda Christian, erano due divi di Hollywood, innamorati dell'Italia. Si sono sposati a Roma nella splendida Basilica di Santa Francesca Romana nel lontano 1949. È stato proprio suo padre a scegliere il nome Romina per lei, un atto d'amore nei confronti di Roma e dell'Italia. Fin da piccola, Romina ha avuto la possibilità di entrare nel magico mondo del cinema. Ha camminato tra i set cinematografici insieme alla sua sorella minore Tarin, circondata da un'infinità di persone che lavoravano freneticamente. I suoi genitori erano protagonisti del grande cinema americano e lei faceva parte di quel mondo incantato. Ma, il sogno si è spezzato presto. Nel 1958, quando Romina aveva appena sette anni, suo padre è morto improvvisamente, a causa di un infarto, durante le riprese di un film. La vita le ha presentato un conto salato, fin da giovane. E così, la bambina americana, con un nome che richiama l'amore per l'Italia, una volta diventata adulta, non poteva fare a meno di seguire il suo destino italiano. Durante il lavoro, ha trovato l'amore della sua vita, sul set di un film intitolato Nel sole. Li ha incontrato, per la prima volta Albano Carrisi. Quell'incontro ha segnato l'inizio di un lungo cammino insieme. Nel 1970, si sono sposati e hanno vissuto una storia d'amore che ha attraversato decenni e ostacoli. Sono nati quattro bellissimi figli, dalla loro unione, e sembrava che niente potesse separarli. Ma purtroppo, dopo quasi tre decenni, la loro storia d'amore è giunta al termine. La separazione è stata dolorosa e inevitabile. Questa decisione ha scioccato il pubblico, abituato a vederli insieme sul palco e nella vita privata. Il loro regno privato si trovava a Cellino San Marco, lontano da occhi indiscreti e invidiosi. Ma nonostante i loro sforzi, la fine della storia era inevitabile. Dopo tre decenni di vita insieme, tra gioie e conflitti, un evento drammatico ha segnato la loro famiglia. Il primo gennaio del 1994, Ilenia Carrisi, la loro primogenita, scompare misteriosamente a New Orleans. Da allora, la sua scomparsa è rimasta. Avvolta nel più fitto mistero, questa tragedia ha segnato profondamente la famiglia e ha messo a dura prova il rapporto tra Albano e Vomina Power. Albano ha sempre negato che la causa della loro separazione sia legata alla tragedia di Ilenia. Sono passati quasi trent'anni dalla sua scomparsa e Albano sembra aver accettato il dolore, indicibile nel corso degli anni. Ma per Romina è diverso. Il dolore lacerante ha sempre lasciato accesa una piccola fiamma di speranza nel suo cuore. Speranza che in qualche angolo del mondo, il cuore di Ilenia continui a battere. Periodicamente, Romina sente una vibrazione diversa, una sensazione di vita, che solo una madre può percepire. Ha condiviso queste sensazioni con i suoi numerosi fan, che sono innamorati di un artista che prima di tutto è stata una moglie e sarà sempre una madre di quattro figli. Su Instagram, Romina ha postato una bellissima foto di Ilenia, accompagnata da una didascalia commovente. Il tuo viso, Ilenia, appare improvvisamente nella mia mente, come i raggi del sole che trapassano le nuvole nel cielo. Dove sei, amore mio? Questa è la domanda più struggente, per la quale teme anche solo di pensarla. Romina Power è una madre, che tiene la porta di casa aperta, nella speranza che un giorno, una voce la chiami di nuovo. Non ha sentito quella voce da quasi trent'anni, ma risuona costantemente nella sua mente. Quelle parole, pronunciate l'ultimo giorno del 1993, sono come un filo invisibile che tiene unite due anime indissolubili. I messaggi che affollano il profilo di Romina Power trasmettono un solo messaggio, coraggio. Un'infinità di cuori rossi simboleggiano l'incoraggiamento a continuare a vivere, portando sempre con sé un amore eterno e un dolore senza fine. Romina Power non smetterà mai di sperare, anche se la speranza sembra senza speranza. Lascia sempre aperta la porta di casa, perché non si sa mai. Grazie per aver seguito tutto il video. Per rimanere aggiornati sulle ultime notizie, lasciate un mi piace e commentate. Iscrivetevi al canale per non perdere i prossimi aggiornamenti. Ci vediamo nel prossimo video. Ciao!